Sono 3.867.179 le dosi di vaccino anti-covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 91% di quelle consegnate dal Commissario Nazionale per l'Emergenza. La Puglia è anche oggi la prima regione nel rapporto dosi consegnate, dosi somministrate. Un risultato importante che mette tanti pugliesi al sicuro, ma non basta. In questo momento comunque la circolazione virale è una circolazione virale molto attenuata. Dobbiamo comunque riprenderci la nostra vita e l'unico modo per riprenderci la nostra vita è vaccinarci. Quindi via qualunque tipo di esitazione, appena c'è offerta la possibilità andiamo a vaccinarci. Nello specifico il 71% della popolazione residente in provincia di Baira ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 41% la seconda è ottima la copertura vaccinale delle persone di età superiore ai 60 anni, che attualmente ha raggiunto il 92%. La campagna vaccinale dell'Asla di Bari continua ad andare avanti per rassicurare una sempre più crescente copertura vaccinale, con una media giornaliera di somministrazione che si attesta tra le 10.000 e le 11.000 iniezioni al giorno. Nelle ultime 24 ore nei centri vaccinali aziendali sono state somministrate 11.108 dosi e l'Hub, Fiera del Levante, continua a raggiungere numeri importanti. Andiamo qui su una media di 1.800 vaccinazioni al giorno, ormai nelle ultime settimane. Complessivamente ne abbiamo erogate 93.000 da quando è aperta la struttura. Nelle ultime 24 ore nella Asla di Bt sono state somministrate 3.064 dosi di vaccino. In particolare a Canosa sono state vaccinate 533 persone, a Biceglie 365, a Trani 481, a Barletta 944, a Margherita di Savoia 309, a San Ferdinando 209. Sono state invece 161 le dosi di vaccino somministrate presso i propri ambulatori dai medici di medicina generale. Grazie a tutti.